Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Falcor The Knife Oggi siamo su Fortnite a fare le sfide Giusto papà? Con mio papà E papà devi mettere pronto, se no non va la partita Utilizzate il nostro codice creatore Falcor Game Che in questo momento è sopra di noi Ragazzi, si arrabbia eh Quindi utilizzatelo di mio papà Ok ragazzi Ora facciamo la sfida Esamina forse a foschi fumaglioli o a scogliere In questo caso noi andiamo a scogliere Giusto papà? Andiamo a scogliere no? E esaminiamo 5 su 7 Cioè mio papà ce l'ha 0 su 7 Io ce l'ho 5 su 7 Quindi io ora, noi andiamo a scogliere Scoscese, vabbè scogliere Per fare la sfida Ok ragazzi, siamo in partita Allora La Ok ragazzi, per qualche motivo i titoli sono così Comunque vabbè Lasciamo stare E non mi ricordo com'è Allora Bisogna attirare a scogliere scoscese Per fare la sfida Di Esamina forse a scogliere scoscese O foschi In questo caso noi stiamo andando a scogliere scoscese Ok E ragazzi stiamo Atterrando a scogliere Stiamo atterrando a scogliere Speriamo che qualcuno non ci killi subito Perché Signori, io devo fare la sfida Devo fare la sfida per i miei fan Devo fare la sfida per i nostri fan Mi si è rotta la porta Sendo un forziere raga È qua sopra Aspetta, fatemi prendere l'arma Chi si è fregata l'arma? Andiamo Dai È qui Dov'è? Eccolo raga No No, 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 no Accidenti Raga Sono messo male Aspetta Roppo qua Perfetto Ok, posso passare E vedete ragazzi Ho fatto la sfida Abbiamo fatto la sfida Esamina A A A A scogliere A A Foschi fumaioli O a scogliere scoscese Noi ci vediamo A un prossimo episodio Delle sfide di Fortnite Ciao 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 Ciao